Quest'oggi abbiamo non una celebrazione, non un concerto particolare, ma un grande ricordo che fa questa cantante che forse dirà poco come nome Iskra Menarini, ma che invece è stata per 25 anni la compagna musicale e artistica di Lucio Dalla. E questo ci onora tantissimo perché, ripeto, non è un ricordo effimero, ma è proprio un ricordo di una persona che ha vissuto tantissimo e conosce tutte le pieghe serie e recondite di questo Lucio Dalla. Disanima, piano, quindi vuol dire che c'è un'anima dentro questa storia. È tanto che non faccio un concerto acustico, quindi c'è questo silenzio particolare, però c'è anche tanto rumore che fa sempre un'anima, un'anima che si collega al cuore. Mi emoziona molto e credo che sia una bellissima cosa, una bellissima iniziativa. Io sono molto felice di esserci e mi auguro di essere all'altezza di questa cosa. Non vi sedete, eh?